Le vicende della fondazione e anche di questo tema ne parleremo nel prossimo spazio con il sindaco Antonio De Caro. Intanto andiamo avanti perché in mattinata il primo cittadino e i sindaci dell'area metropolitana hanno incontrato i vertici dell'Agenzia del Demanio. C'era per noi Silve Ripinto. Bari come laboratorio, comune pilota in Italia che per primo sperimenterà i vantaggi dello sblocca Italia. Il riconoscimento arriva dall'Agenzia del Demanio che in mattinata ha incontrato i comuni dell'area metropolitana per illustrare i vantaggi dell'articolo 26 dello sblocca Italia. In pratica si velocizzano e semplificano le procedure con le quali lo Stato cede ai comuni gli immobili da valorizzare. L'ente locale chiede il Demanio e deve rispondere entro 30 giorni. Anche grazie a questa opportunità al comune di Bari saranno trasferiti l'ex bonomo da utilizzare in parte per l'emergenza abitativa, il Margherita e il Mercato del Pesce, in cambio della Cittadella della Cultura, l'ex caserme Milano e Capozzi e con il contributo di Invimit sarà riutilizzata la manifattura tabacchia a beneficio dell'università. Siamo il primo ente, siamo un ente sperimentatore che utilizza l'articolo 26 dello sblocca Italia. Collocheremo all'interno delle caserme Milano e Capozzi il polo giudiziario e contemporaneamente nell'ambito della valorizzazione dell'ospedale Bonomo, comunque un piccolo immobile all'interno del Bonomo diventerà temporaneamente la sede per le persone in difficoltà all'interno della nostra città che vivono una situazione di emergenza abitativa. Un modo questo per contenere la spesa pubblica, spiega Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, tra Puglia e Basilicata sono già più di 200 gli immobili trasferiti, numeri da podio nella classifica delle regioni italiane. Quello che riusciremo a fare a Bari servirà anche di riferimento per replicare in altre parti del paese, non solo al sud ma anche al nord. Grazie a tutti.